allora buonasera signori ben ritrovati in un nuovo video oggi andremo a vedere una feature che mi hanno solleticato di inserire all'interno del server ovvero essendo che è stato rimosso l'incantesimo mending ovvero voi lo potete trovare ma non funzionerà quindi inutile incantare con mending h ripristino perché non va ok quindi l'unico modo per riparare le armi è attraverso l'incudine con il materiale di origine e exp fino però a un certo tot perché si arriverà a un cap dove vi dirà che costa troppo e quindi quello è il limite che voi potete raggiungere di riparazione per ovviare questo problema che per alcuni è un problema perché comunque mending h ripristino è indispensabile però dall'altra parte a me rompe un po le palle perché essendo che il server è basato principalmente sull'exp ti fai due bottiglie le lanci per terra poi ti ci avvicini ripari l'equipaggiamento e dopo si andava a perdere quel che è tutta la routine del crafting dell'incantamento comunque lui è fabbro fabbro è disponibile a oltranza su una necessità allo spawn se si avrà all'inizio abbiamo avuto un paio di problemi implementarlo ora però funziona perfettamente come funziona funziona che per poter riparare potete potrete ripararli in intero l'inventario al costo di tre livelli andrete da fabbro cliccate tasto destro e lui vi riparerà tutto ciò che avete nell'inventario non ha cooldown quindi potete utilizzarlo tranquillamente finché vorrete o comunque finché è proprio adesso la scritta o comunque finché avrete exp a disposizione se non avrete ovviamente dovrete andare a fare questo è un piccolo è un piccolo sunto di tutta la grande galoppata di oggi due minuti tre minuti spesi con perfezione mi raccomando sappiatelo non vi disperate e noi ci becchiamo in game spero di vedervi un po di più presenti sul server essendo che è l'estate quant'altro però se non riuscite amen pazienza vedo questo alla prossima